Nuovo appuntamento per il movimento Natal Terzo Valico. Dopo la grande manifestazione del 26 maggio, in cui migliaia di persone hanno urlato un chiaro no alle opere inutili e alla devastazione del loro territorio, i comitati tornano a confrontarsi con tutti i cittadini sulle prossime iniziative da mettere in atto. Per difendere il nostro territorio, il nostro diritto alla salute e ad un futuro sostenibile, per noi e per i nostri figli, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Per fermare il Terzo Valico, i prossimi passi li decidiamo insieme. Venerdì 22 giugno, ore 21, Sala Foral, via Carducci 6, Novi Ligure.